eh questa non era mai uscita, poiché d'un boi, quella, ascolta se non vado, no cosa fai, cosa stai facendo, sembrava una tragedia, ma no, mi scavoliamo le carte adesso, mi stiamo a vedere, qua anni di corso, mutate via perché uno disfa le carte, su, e fa le su, usale per te quelli, ma usale per te, guardiamo qua subito, la morte, appena uscita, però è dalla tua parte, no, no, cosa, Davide per cortesia, la lascia lì, la morte è uscita lì, la lasciamo lì, oh, allora, se la morte è lì, noi siamo vivi, non vuoi mica dire, poi guarda qua, tarocchi originali, eh, credo che sia l'unico, o sono tarocchi o sono originali, Davide per cortesia, ha ragione, allora, facciamo il lavoro, eh, sì, facciamo il lavoro, 5 euro di lavoro, dai, 5 euro di lavoro le mettiamo dentro, allora, beh, fai un lavoro che è un po' di qua e un po' di là, certo, beh, fai un lavoro che vai un po' su e un po' giù, lo dici o lo chiedi, perché se lo chiedi togli 5, lo chiedi tu, Davide, cosa togli? No, ma noi iniziamo a recuperare qualcosa, perché se improvvisi, così ne faccio anch'io le carte, dai, cosa vuoi sapere del lavoro? Le ferie, ma che le ferie? Dai, allora, andiamo, non lo faccio, il lavoro non l'ho affettato, mai come serve io, facciamo, la morte, c'è stato un periodo della mia vita che mi sentivo così vuoto, così morto dentro, che tutti i giorni guardavo negli annunci mortuari per vedere se c'ero anch'io, vabbè, dai, allora, facciamo, facciamo, la salute, la salute da 7 euro, dai, fai anche le ricette, la salute, la salute, fammi vedere, fai, te hai avuto dei problemi a livello qua di esterno ultimamente, dei problemi di esterno, dei problemi un po' in ginocchio, meniscono, meniscite, hai avuto dei problemi anche a livello, se sei improvvisi togli 15, torniamo già a cavallo.